La parola d'ordine per la ripresa delle attività nelle parrocchie della Diocesi di Cremona è sicurezza. L'ordinanza regionale del 31 luglio, in vigore fino al 10 settembre, conferma una serie di misure precauzionali, come l'obbligo di distanziamento, l'igienizzazione delle mani e l'utilizzo della mascherina negli spazi al chiuso. A tali disposizioni, la Federazione Oratori Cremonesi aggiunge le linee guida da adottare in caso di realizzazione di feste, una tradizione al termine dei Grest, e si prepara alla ripartenza dell'anno oratoriano prevista a settembre. Il primo passo è una riflessione sui centri estivi appena conclusi, per i quali si è reso necessario un cambio di approccio rispetto alle precedenti edizioni. Siamo stati un po' anche dei pionieri, nel senso che i centri estivi di questi mesi hanno segnalato, dopo la non riapertura delle scuole, il primo segno di vicinanza ai ragazzi a livello di socialità e di proposta educativa. Certo, la fatica è stata grande, non solo per la interpretazione delle norme, ma anche poi in generale per il bisogno di dover ricominciare tutto in sicurezza, i piccoli gruppi, l'igienizzazione e anche il giusto timore di non eccedere rispetto alla custodia della salute nostra e dei più piccoli. La programmazione delle attività autunnali in oratorio avviene secondo i provvedimenti del Ministero della Salute e con lo sguardo alla ripartenza scolastica. Tante parti della nostra attività oratoriana sono agganciate temporalmente e culturalmente al ritmo della scuola, per cui sarà un settembre, un ottobre sicuramente movimentati, dove riusciremo a fare le nostre attività, ripartiremo sicuramente con i nostri percorsi formativi, ma sempre con la prudenza e con le attenzioni del caso, perché l'emergenza non è finita, proprio di queste ore è la notizia dell'abbassamento anche dell'età media dei contagiati in Italia, per cui davvero i contesti educativi sono i primi ad essere chiamati alla responsabilità. Sarà quindi riorganizzata la catechesi parrocchiale, rilanciato il Cortile dei Sogni e rivolta un'attenzione speciale alla pastorale digitale. Le riflessioni verranno condivise durante l'Assemblea Oratori, in calendario per lunedì 14 settembre alle 18, presso il Seminario Vescovile di Cremona, mentre sono già disponibili sul sito web della FOCRA le proposte per l'anno oratoriano 2020-2021, che avrà come titolo Ad occhi aperti.